Gli investigatori e la procura non escludono al momento alcune ipotesi per la morte di una donna di origine orientale che potrebbe avere tra i 35 e i 40 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto sabato mattina all'interno di un trolley ripescato nelle acque del porto canale di Rimini. A fare la macabra scoperta, due amici che stavano lavorando la rimessa in acqua della loro barca, il cadavere ripiegato nella valigia è stato trovato nude senza segni di ferite in stato di decomposizione. Secondo i primi accertamenti, la morte della donna sarebbe avvenuta almeno dieci giorni prima. È stata avanzata l'ipotesi che il corpo possa essere quello di Xing Lei Li, la 36enne di origine cinese scomparsa dal 10 febbraio durante una crociera che stava facendo insieme alla famiglia. La vicenda vede in carcere il marito, un irlandese di 45 anni, Daniel Belling, accusato della sua morte. Il 45enne ha sempre respinto ogni accusa dicendo che la moglie si era allontanata volontariamente dalla nave. Sulla coincidenza tra i due casi ci sono comunque dati che non li farebbero corrispondere. Il cadavere del trolley avrebbe un'altezza intorno al metro e 70, mentre Xing Lei Li non supera il metro e 52. Della donna si sono poi perse le tracce da Civitavecchia nel Martirreno, da capire come il corpo può essere raggiunto per mare fino a Rimini.